Ciao! Beautiful Day X 2018. Questo è il video per la Christmas Edition. Parliamo di Natale, parliamo di regali di Natale, parliamo di idee per fare un regalo alla persona che amate. Allora, andando nel sito beautifuldayx.com potete acquistare tranquillamente i vostri biglietti, stampare i biglietti e soprattutto troverete il pdf già pronto per fare il regalo di Natale. Potete stamparlo, mettere il nome, la dedica, personalizzarlo con la vostra dedica alla persona che amate e poi lo dovete impacchettare nel modo più simpatico che desiderate. Dalla tradizionale cornice bianca, che potete ovviamente impacchettare, una busta rossa con scritto ti amo, grazie per quello che fai per me, track sotto l'albero, un babbo Natale che tiene il biglietto, la tradizionale palla di Natale, questa eccola qua, potete mettere il biglietto come avete voi, oppure la classica scatola con i gattini, questa fa sempre 2-3 mila like e funziona sempre. Biglietti di Natale più variopinti, bottiglia di vino, l'albero di Natale, fate quello che meglio credete ma l'idea è fighissima perché state per regalare il vostro tempo. Quindi, idee originali, soluzione per regalare di Natale, Beautiful Day X. Vi aspetto a Milano, 4 febbraio 2018. Ciao!